Con la gara amichevole di domani inizia una serie di appuntamenti per avvicinare Blue Volley alla federazione di pallavolo russa. La parola anche a Luca Bazzoni, socio di Blue Volley. Diciamo che l'importanza per Blue Volley e anche per il movimento pallavolistico è importante. Domani ritroviamo in campo dei campioni del passato che ci hanno dato soddisfazione sia dalla parte italiana che dalla parte russa. Sarà un piacere assistere a questa avventura. È l'inizio di questa avventura che ci porterà comunque ad essere più vicini alla federazione russa. Sarà una partita importante anche sotto l'aspetto della solidarietà che noi sapete benissimo come Blue Volley siamo molto vicini, ci teniamo molto. Ma poi sarà anche una cosa molto importante per un discorso imprenditoriale. Ci avvicinerà molto quel mercato russo e quindi sarà positiva la cosa. Domani si giocherà l'amichevole benefica tra una selezione di ex campioni italiani e una selezione russa. Un punto di partenza per future collaborazioni tra Blue Volley e la federazione russa di pallavolo. Sì, è stato siglato questo gemellaggio, questo accordo tra la federazione russa di pallavolo e il Blue Volley Verona. È un gemellaggio tecnico commerciale, darà possibilità in tutte e due le direzioni di sviluppare sinergie tecniche per avere giocatori giovani qui in Italia e per dare la possibilità alla società di Verona di poter andare in Russia nazionale che ad oggi è leader a livello mondiale nel settore sportivo e dal punto di vista commerciale è ovviamente una grande possibilità per quello che rappresenta la federazione russa in questo momento a livello economico mondiale.